benvenuti ad un nuovo episodio di gong 10 minuti con round 2 partiamo subito nel tentativo disperato di restare entro i limiti temporali che ci siamo dati falliremo con le notizie del giorno e partiamo da maripur rabbits sparks of hope dopo la breve presentazione all'interno del direct mini partner showcase nella giornata di ieri c'è stato un approfondimento di circa un quarto d'ora dedicato al titolo sviluppato da ubisoft milan marco lo ha seguito lascerei la palla a te per raccontare più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto sì è stato davide solliani creative director del gioco a prendere la parola e a raccontarci quelle che sono le caratteristiche del seguito di un'esclusiva nintendo switch assolutamente da non sottovalutare mando anzi mandiamo perché so che sei d'accordo con me un messaggio ne approfittiamo per dire di recuperare nell'attesa del prossimo 20 ottobre il giorno di pubblicazione di questo seguito diretto dell'originale recuperate il primo mario plus rabbits kingdom battle perché è un gioco veramente veramente bello con anche l'idea di provare per la prima volta magari un genere quello degli strategici a turni all'ex com forse un po' lontano dalle dalle corde di alcuni e sicuramente anche dal pubblico nintendo detto che però qualche esperienza di quel tipo penso a fire emblem e advance war c'è stata e soprattutto un prodotto che pur essendo sviluppato da una terza parte era assolutamente in linea con la qualità dei titoli first party forse era quello l'elemento che più colpì al tempo dell'uscita sono molto d'accordo aggiungo anche che è stato il gioco che ha avuto il merito secondo me di dare uso una parola un po' forte la dignità ai rabbits nati come costola di reime nell'epoca di wii e mai in realtà secondo me capace di trovare una loro collocazione l'hanno trovata in maniera abbastanza surreale con una commissione con il regno dei funghi e ripeto in un genere quello degli strategici particolare grazie alla bravura la visione di soliani che adesso però si cambia si cambia cioè tornano alla ribalta con un una continuazione non ha il due nel nome ma di fatto lo è in tutto e per tutto che però si prende dei rischi con coraggio infatti una cosa che è stata ribadita in maniera molto esplicita ieri per ben tre volte durante il quarto d'ora di showcase non ci saranno più le caselle ci si muove liberamente all'interno dell'arena il gioco resta comunque con un sistema di turni ma è un sistema di turni assolutamente più libero più dinamico in cui il giocatore ha facoltà non solo di muovere ogni singolo personaggio all'interno del suo raggio d'azione che è delineato da una circonferenza appunto opposta a terra ma anche di switchare tra un personaggio e l'altro quindi tu prendi rabid pitch la muovi un po' in giro poi passi a mario muovi un po' in giro poi passi a rabid luigi torni il nuovo rabid pitch la fai sparare eccetera eccetera con un'idea di azione barra strategia sicuramente interessante grande anche valore sembra esserci proprio nella produzione in sé per sé che convince dal punto di vista tecnico curata e rifinita assolutamente con quella passione e quell'ardore proprio della grande n e la grande novità sta nell'annuncio anche di nuovi compositori esatto quello mi ha colpito moltissimo perché di solito fra l'altro quando si fa comunicazione la componente musicale molto in secondo piano esatto molto in secondo piano a meno che non ci siano grandi nomi coinvolti magari sai qualcuno di storico come può essere uematsu o via dicendo e qui ci sono questi grandi nomi coinvolti quindi inedita secondo me un pochino sia la volontà di appunto tirare dentro il progetto queste personalità sia la volontà di utilizzarle proprio come gancio comunicativo assolutamente sì secondo me ripeto è la testimonianza esplicita dell'idea che sta avendo ubisoft in generale e milano nello specifico di credere fortemente in questo in questo brand di dare valore a un'esclusiva anche in un momento in cui le serie magari storiche di ubisoft l'abbiamo detto a più riprese da far cry da assassin's creed lo stesso prince of persia sono un po' per aria creativamente anche un po' in difficoltà qui secondo me si sono trovati una loro piccola isola felice che si può permettere anche diciamo incursioni di questo tipo incursioni che sono del calibro di grant kirkhope che insomma è un compositore ben conosciuto per aver lavorato a classici come golden eye ma anche a banjo kazoo e don't come 64 e secondo me già è un po' significativa anche questa scelta perché lui lui c'era già anche nell'originale c'era già anche molto amico esatto proprio per questo cioè perché si porta un po' dietro diciamo anzi è rappresentativo di un mondo che per davide soliani secondo me è stato formativo fondamentale stavolta nel sequel arrivano anche yoko shimomura vabbè una compositrice veramente storica che ha lavorato a rpg di altissima elevatura e gareth cocker che invece è conosciuto per il lavoro per un lavoro più recente su ori and the blind forest e il sequel diretto the will of the wisps che avevano tra l'altro appunto una colonna sonora eccezionale come tutto il resto del comparto artistico quindi grandi aspettative da questo punto di vista è un gioco che promette novità anche in termini di gameplay puro con gli sparks che sono gli sfavillotti versione rabbits che consentiranno di aggiungere dei poteri un po' elementali alle varie armi secondo me c'è davvero da 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 attendere questo questo ritorno ripeto se non avete già giocato l'originale recuperatelo perché merita tantissimo e tra l'altro settimana prossima per tutta la settimana se siete abbonati nintendo switch online quindi l'iscrizione premium diciamo dell'online della grande n sarà possibile scaricare l'originale e giocarlo per una settimana e in una settimana tra l'altro si finisce alla grande potete godervelo così la seconda parte di questa puntata la dedichiamo ancora nintendo però insomma proprio alla casa madre perché vogliamo commentare una dichiarazione del presidente che forse ha deciso di mettere un po un piccolo freno all'effetto nostalgia non lo so se la possiamo vedere così va un po capita va un po capita c'è è stato shuntaro furukawa che è il presidente di nintendo che durante il meeting con gli azionisti che si è tenuto in giappone proprio ieri ha ovviamente risposto a delle domande una delle domande verteva sulle ip di nintendo storiche e ce ne sono tantissime cioè citiamo ovviamente f0 citiamo wave race 1080 snowboard chi dica rus pilot wings veramente c'è di tutto star tropics che cosa sei andato a prendere di tutto di tutto veramente e appunto la domanda che gli è stata fatta è sapendo che esiste un pubblico per ognuno di questi titoli mother per citarne uno caro a moltissimi perché sostanzialmente non li riportate sulle scene cioè l'interesse c'è c'è anche da in alcuni casi decenni ascoltate i feedback del pubblico ovviamente la risposta è stata siamo molto lusingati di questa attenzione molto lusingati anche di sapere che comunque le nostre ip hanno lasciato un segno ma realisticamente proprio per questioni di risorse umane e produttive è proprio impossibile dar seguito alle a tutte le richieste dei fan alle volte succede che arrivi il sequel o il remake di un titolo richiesto a gran voce ma è proprio impossibile stenderlo a tutte le ip di nintendo fra l'altro ha fatto un esempio particolare sì esatto spiega che durante il settantanovesimo meeting con gli azionisti nel 2019 qualcuno aveva chiesto se ci fossero piani di riportare in auge famicon detective club che non è esattamente una serie tra le più note e lui dice la curiosità è che mentre ce lo chiedevano effettivamente avevamo quel gioco di sviluppo poi è stato pubblicato quindi alle volte succede ma come in quel caso non è successo perché abbiamo necessariamente ascoltato le domande degli altri ma perché avevamo già un po deciso ecco io due cose voglio dire da una parte sono anche contento che arrivi questa risposta abbastanza decisa magari per convincere anche gli azionisti anche a focalizzarsi di più su un nuovo ip piuttosto che necessariamente su guardare avanti invece che indietro esatto ma l'altra cosa che voglio dire è va bene tutto però se devi scegliere fra famicon detective club e f0 insomma shultaro ma che fate c'è ragione su questo c'è ragione non ci avevo pensato in effetti non l'avevo vista così ok la libertà creativa e però dai e dacciolo sto f0 e dacciolo sto f0 incredibilmente rientriamo nel limite di tempo che ci siamo dati record meno di 10 minuti con round 2 grazie per averci seguito anche in questo episodio di gong scusate per la brevità addirittura adesso mi sento un po in colpa dobbiamo dire due cazzate per arrivare no 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 le cazzate su ogni mattina dalle 10 alle 12 su twitch ciao